Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di EG di Milano. Borse negative con il settore energetico in forte difficoltà per il ritorno delle vendite sul greggio. Nelle ultime due sedute infatti sono tornati forti vendite proprio sul petrolio, legati in prevalenza ai deludenti dati sulle scorte di greggio statunitensi pubblicati ieri, saliti a un nuovo record storico di 532,5 milioni di barili, ben superiore alle aspettative degli esperti delle industrie e del mercato. Tali dati sulle scorte fanno capire come l'eccesso di offerta sul mercato sia ancora presente, quindi crediamo che la tendenza positiva partita dai minimi di febbraio possa finire molto presto. Riteniamo che i dubbi sull'esito del meeting in Qatar a Doha del 17 aprile porteranno i prezzi del greggio ad arretrare almeno fino ai livelli di fine febbraio, attorno ai 34 dollari. Stimiamo che siano infatti basse le probabilità di successo dell'evento, in caso soprattutto dell'assenza dell'Iran. Siamo convinti che Teheran possa giocare un ruolo fondamentale nella partita. Negli ultimi giorni inoltre si è aggiunta anche la Libia come paese oppositore alla decisione di congelare la produzione, aumentando le probabilità che l'evento di Doha possa risultare in un nulla di fatto. Da un punto di vista tecnico, dopo il cedimento del supporto posizionato a 40 dollari al barile, il prossimo obiettivo per i prezzi del crude oil statunitense lo abbiamo fissato in aria a 37,40 euro. Guardando invece il Forex, l'euro dollaro è in risalita a 1,11,80, il rialzo però è ancora troppo poco significativo per invertire il trend ribassista di breve. Con questo è proprio tutto, buon trading!